Udine Sud chiede aiuto per migliorare una situazione che secondo la cittadinanza non è delle migliori. È stata fatta una raccolta che ha già raggiunto quota 570 firme. Udine Sud quindi chiede più controlli, più illuminazione tramite l'installazione di nuovi lampioni e nuove telecamere per sentirsi più al sicuro. La petizione è stata inviata al primo cittadino, al sindaco Alberto Felice Detoni, al prefetto e al questore di Udine e a tale iniziativa hanno aderito i residenti di Baldasseria, Paparotti e Cusignacco che adesso si aspettano una risposta puntuale.